Ciao a tutte! Allora, questa sera voglio parlarvi di una cosa perché seguendo sempre quella linea del mio tutorial per principianti mi sono bloccata un attimo stavo andando avanti ma mi sono bloccata perché alcune ragazze mi hanno chiesto se potevo aiutarli a capire cosa potevano acquistare per iniziare a lavorare e come decidere cosa acquistare in quali momenti e cose di questo genere allora ovviamente il mio consiglio principale è sempre quello di acquistare un pochino per volta perché poi se la tecnica non ci piace o magari non acquistare subito materiale di ottima qualità perché se la tecnica poi non ci piace ovviamente rimaniamo con del materiale più che molto costoso che non utilizziamo e quindi questa è una cosa che io eviterei io ho proceduto per gradi e qui appunto in questo diciamo filmato vi parlerò proprio di come io ho acquistato per tempo delle cose spendendo un pochino alla volta ma acquistando sempre dei materiali sempre diciamo più se vogliamo che riuscivano diciamo sempre più a raffinare alcune tecniche quindi niente intanto appunto vi parlerò delle pinze vi parlerò diciamo di altre cose che sono anche correlate ovviamente alla lavorazione dei gioielli e niente seguite il tutorial io vi saluto e vi ringrazio ciao come vedete qua sul tavolo ho una serie di attrezzi ma innanzitutto vi faccio vedere una cosa mi sono organizzata così ho questa piccola cassettina eccola qui adesso vi faccio vedere i cassettini ma ovviamente ho tirato fuori un po' di tutto quindi ovvio non c'è quasi niente però insomma vabbè poi ci sono un po' di attrezzi di cui vi parlerò più avanti e vi farò vedere il funzionamento però come appunto vi ho detto diciamo nell'introduzione volevo parlarvi un po' di attrezzatura e soprattutto di attrezzatura per principianti allora io vi dico qual è stata la mia esperienza e come ho cominciato innanzitutto io ho cominciato diciamo a creare delle cose molto semplici e quindi innanzitutto ho cominciato così ho acquistato queste tre pinze e adesso ve la faccio vedere precisamente una tronchesina semplicissima anzi leggermente più grossolana rispetto ad altre però una tronchesina una pinza a punte coniche eccola qua semplicissima e una pinza a punte piatte però appunto con la punta fine e non spessa ho cominciato così e con queste tre pinze ho creato veramente un pochino di cose innanzitutto il consiglio che vi do è proprio questo di acquistare un pochino per passi perché poi magari ci sono delle cose che vi possono impiacere o delle cose che magari non vi interessa più continuare quindi anche delle attrezzature che non vi interessano più quindi vi consiglio sempre di cominciare per passi quando è iniziata una nuova tecnica comprate l'essenziale e potete anche acquistarlo di una qualità diciamo di qualità anche diciamo media o anche diciamo di scarsa qualità non importa perché poi capirete se la tecnica effettivamente vi piace e quindi potrete acquistare di nuove come è capitato a me perché io ho cominciato a lavorare con queste pinze e mi sono trovata bene ho fatto delle collanine carine e tutto quanto ovviamente diciamo quello che facevo erano essenzialmente collane su fili fili di metallici o cose di questo genere quindi bigiotteria non dico diciamo di secondo livello per carità perché ancora ne faccio e mi piacciono e ne indosso anche ma diciamo creazioni semplici anche se molto belle continuo a dirlo cioè ho fatto delle collane di sveroschi semplicissime su un filo con qualche componente particolare che ancora indosso quindi evidentemente mi piacciono però dopo di che ho cominciato a lavorare un pochino sui cappi come vi ho fatto vedere ho fatto dei tutorial no e soprattutto sul cappio avvolto anche detto cappio ad orefice e quindi mi sono resa conto che effettivamente per lavorare con il cappio avvolto erano molto utili due pinze a punta piatta per cui ho fatto ho acquistato un'altra pinza che è questa che è a punta piatta curva guardate e questo è molto utile perché permette di ruotare molto più agevolmente intorno ovviamente alle pietre quando le pietre sono grandi è facile con le pinze ad andarci diciamo a sbattere per cui la pinza curva è utile per questo ed è utile anche per andare a ripiegare quelle piccole asperità che rimangono quando si è finito il cappio ad orefice quindi diciamo che anche queste sono molto utili però vi ho detto come inizio io ho fatto su queste tre poi questa dopodiché ho notato che appunto quando tagliavo con questa trunchesina il taglio era preciso sì però appunto proprio nel cappio avvolto rimanevano sempre le asperità che era restante era abbastanza lunga quindi ho voluto provare ad utilizzare un'altra trunchesina un pochino più di precisione infatti vedete guardate la lama quanto è fina rispetto alle altre che mi è piaciuta moltissimo ho un'altra cosa che ho provato e ve la devo dire questa perché per esempio queste trunchesine un pochino le ho rovinate perché quando ho iniziato ho iniziato a lavorare anche con il filarmonico allora per il filarmonico io sapevo che c'erano delle trunchesine per filarmonico però effettivamente rispetto a queste costavano molto di più e quindi all'inizio non le ho volute comprare però il filarmonico è molto duro quindi ha bisogno proprio delle trunchesine che servano appunto a tagliarlo perché a volte le possono rovinare infatti queste sono leggermente rovinate ancora tagliano bene ma alcuni punti dove appunto ho fatto il taglio del filarmonico sono rovinati e non tagliano più bene quindi questa diciamo è una mia esperienza personale quindi se avete intenzione di lavorare col filarmonico magari invece di rovinare le vostre trunchesine a meno che io non sono trunchesine che avete pagato 2 o 3 euro ecco potete appunto acquistare le trunchesine per il filarmonico devo dire la verità io ho fatto i primi lavori col filarmonico e poi mi sono fermata perché mi sono appassionata ad altre cose avevo intenzione di fare anche dei bracciali così avevo già creato delle cose avevo altre idee però mi sono fermata appunto alle creazioni che ho fatto perché ovviamente mi sono appassionata anche ad altre tecniche tra cui la chainmail allora della chainmail vi parlerò più approfonditamente anche in un altro tutorial ma giusto per farvi capire come utilizzo io le attrezzature cosa utilizzo e poi insomma cosa ci può servire per lavorare al meglio diciamo le maglie però va bene adesso voglio fare una panoramica generale dopo tutto questo innanzitutto vi devo dire che io sono appassionata anche di lavorazioni wire ovviamente la chainmail la conosco da molto più tempo quindi vi sto facendo dei tutorial per questo motivo sulla lavorazione wire ancora ho un po' di lavoro da fare quindi non vi voglio fare tutorial adesso perché non mi sento insomma non sento che sia che che è ancora il momento giusto però insomma già utilizzo diverse attrezzature utilizzo il wig utilizzo anche il rocchetto per lavorare appunto con per le lavorazioni tubulari ho già utilizzato l'artistic wire ho già utilizzato il torcifilo per esempio ho già creato degli anellini con appunto delle attrezzature per creare anellini vi farò vedere tutto quanto però al momento queste mi sembrano appunto le cose veramente principali da dirvi allora appunto per questo visto che mi sono appassionata al wire ho voluto comprare altre due pinze una è questa qui eccola la vedete è una pinza appunta piatta spessa cioè grossa e di plastica questa serve a non rovinare il filo quindi l'artistic wire quando appunto si lavora con il filo metallico perché ovviamente si può rischiare di rovinarlo allora poi su questo vi farò un'altra vi dirò appunto un'altra cosa e in più ho voluto acquistare anche questa che è come vedete una pinza punta piatta spessa larga anche questa può servire per tenere ferma appunto le lavorazioni wire allora da una mia esperienza che ho potuto appunto avere ho notato uno per le lavorazioni wire che se si usa l'artistic wire veramente diciamo il filo metallico non si rovina neanche con queste pinze e questo è importante dirlo se si lavora con altri fili di alluminio purtroppo può capitare che si scalfiscano molto più diciamo con molta più facilità e quindi vi consiglio di utilizzare questo poi invece sulle lavorazioni invece in chain mail vi dico appunto questo cioè che ho cominciato ad utilizzare questa pinza per lo stesso identico motivo per cui lo utilizzo nelle lavorazioni wire perché se gli anellini che si acquistano non sono proprio di ottima qualità oppure sono degli anellini che magari utilizziamo per raccordo e quindi sono più duri con le pinze classiche è facile che si rovinino che si graffino che si scalfiscano siccome a me non piace moltissimo sono abbastanza precisa nelle lavorazioni allora in quei casi utilizzo queste pinze qui e le utilizzo appunto queste calcolate sono pinze per il wire però le utilizzo ugualmente ed ho degli ottimi risultati allora per esempio se avete visto delle mie creazioni dove appunto univo diciamo le diverse lavorazioni con degli anellini rollò molto spessi quegli anellini erano molto più duri rispetto agli anellini classici della chain mail e quindi avevo notato che diciamo prendoli con queste pinze qui o con le altre anche queste più fine di solito erano queste si rovinavano facilmente soprattutto quando si andavano a richiudere in più sfuggivano proprio alle pinze sfuggivano dalle mani e quindi era abbastanza difficile diciamo lavorarli con queste invece mi sono trovata benissimo si richiudevano perfettamente e andavano appunto e si richiudevano perfettamente e non si rovinavano quindi chiudo questo per dirvi appunto che questa è appunto la carrellata delle pinze che ho ho anche appunto vi ho detto ho moltissimi altri attrezzi che vi farò vedere più avanti oltre alle pinze volevo farvi vedere altre cose che ho acquistato sempre diciamo nel tempo ma ovviamente diciamo sono cose abbastanza utili ok ovviamente io non ho più i primi che avevo una volta però appunto ve li faccio vedere e sono questi contenitori per perle e perline ora ovviamente io non sono una perlinatrice se non altro non ancora comincio a fare le mie prime esperienze e quindi poi vi farò vedere quali sono i miei risultati però ecco vedete ci metto le perle gli svaroschi ho delle perle dionici insomma le perle anche più grandi quelle che utilizzo per le collane per le decorazioni le tengo in queste che sono delle scatoline appunto per perle perline e cose varie allora queste sono le ultime che ho comprato 3 o 4 mesi fa da hobby perline è solo per farvi vedere perché ovviamente che cosa succederà che mano a mano che si andrà avanti diciamo nella crescita un po' nella creazione di gioielli si avrà bisogno anche di queste cose di questi contenitori e guardate di questi contenitori se ne possono utilizzare a migliaia si possono prendere anche quelli da ferramenta come si possono acquistare dai diversi siti come nei negozi appunto che riguardano solamente perline costano un pochino di più in questi negozi però ovviamente sono fatti più ad hoc però insomma guardate quando se ne cominciano ad avere tante veramente si compra qualunque contenitore che possa contenerle ho un'altra cosa che ho comprato dopo un po' di tempo appunto che lavoravo le perline sono questi tappetini l'ho comprati sempre tre o quattro mesi fa sono tappetini che tengono fermi i componenti perché mi sono resa conto che effettivamente quando lavoravo perdevo i componenti cioè mi si attaccano ai vestiti si attaccano un po' dappertutto e poi non si ritrovano e quindi ho acquistato questi tappetini sui quali faccio sempre le lavorazioni avrete visto pure anche quando faccio le lavorazioni in chainmail diciamo le utilizzo sempre un'altra cosa che ho trovato diciamo abbastanza utile è questa e l'ho sempre comprata da poco anche questa da tre o quattro mesi ma diciamo la trovo molto utile vedete tutte queste vaschette allora questa qui non è altro che una tavoletta creativa è precisamente una tavoletta creativa per realizzare collane come vedete ci sono tutte queste vaschette che sono molto utili alle creazioni e ci sono anche due o tre giri di collane che possono servire sia per diciamo realizzare diverse lunghezze di collane ma io spesso le utilizzo anche per avere una visione d'insieme magari su due tipologie della stessa collana per vedere se mi piace di più l'una o l'altra quindi io mi ci sono trovata bene devo dire che è un attrezzo che alla fine per il costo diciamo accessibile a tutti è utile quando si realizzano soprattutto collane con perle perline e componenti vari un altro acquisto che sarebbe carino è quello della tavoletta creativa per bracciali anche quella credo che sia abbastanza utile io ancora non l'ho fatta devo dire la verità anche perché al momento quando mi viene in mente bracciale mi viene in mente un bracciale di chainmail perché io adoro la chainmail e ne metto sempre tanti ne metto sempre diversi li realizzo e li indosso quindi alla fine diventano miei comunque a parte questo spero di esservi stata di aiuto e con questo vi ringrazio e vi saluto ciao